Vi do il bentornato, il benvenuto laggoso, perché è tutto completamente bloccato, sulla rad 2. È ripartita. Ok, ci siamo, ci siamo. Allora, mangiamo, non so perché avevo pochi cuori, laggiù c'è un creeper. Ma che c'è laggiù? Una caverna? Ma poi davvero lo prende da così lontano? L'altra volta era soltanto per i mob vicini. Infatti ora non lo prende più. Ah, da qua lo prende, da là no. Oggi abbiamo da spendere i punti dell'altra volta che ho rimandato un pochettino. Abbiamo fatto un po' di quest che per assurdo abbiamo fatto più livelli l'altra volta che la volta prima, che era quella appunto dedicata completamente ai livelli. Ora che siamo a casa posso anche prendere queste treasure bag e aprirle? Perché no, ci può stare. E sì, bisogna un attimino vedere come andare a spendere i punti, cioè nel senso dove rodiamo l'esperienza. Perché io potrei puntare al danno e fare ancora più danno, anche se poi effettivamente è un per cento in più. Che comunque non è male perché se facciamo sei livelli, ci facciamo un sei per cento in più, non fa schifissimo. No, però dico, magari con l'arco me l'avete chiesto di fare qualcosa, però effettivamente l'arco non è proprio una cosa che mi interessa particolarmente. L'endurance sì, resistiamo di più. La magia, boh, potenzialmente può essere interessante. C'è che etering volendo? Ma non lo so ragazzi, veramente non lo so. Endurance al cento ci facciamo, dite. E però non ci aiuta a usare un qualcosa di migliore, perché noi abbiamo già la roba migliore in assoluto. Ma per tutto ci ha dato della roba a caso d'oro. Ma guarda, potevo anche farne a meno il libro, però... Beh, lo metto insieme agli altri, chi se ne frega, a posto. Vi faccio vedere, allora. Dovrebbe essere... Ok, queste qui sono quelle delle dimensioni, vedete? Da qua in su. Quindi questa dimensione, ci siamo andati. Di dimensione, ci siamo andati, ma c'è ancora da finire questa parte qui. Che comunque non paga molto, ma in questo caso da dieci livelli. Quindi dieci livelli sono interessanti. Questi sono due livelli di exp. E questi sono due livelli, ma da quel capitolo randomico. Comunque sappiamo dov'è questa zona, quindi possiamo andarle a fare, ovviamente. E a fine episodio, a questo punto, li spendiamo tutti. Questo si è fatto... Questo qua, vedete? Io non so cosa sia. È un portale per una dimensione. Sì, ok. Qua c'è Dimensional Dungeon. Che è il libro. Ci dice come farlo, quindi ci spiegherà anche come entrare. E poi questo qui è una chiave. Quindi il modo... C'è, 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 c'è. Con un libro. Proviamo ad andarci oggi. Non ho la cosa cisellata. Ma la cosa cisellata... Si serve il cisel? No, serve i brick... Briccosi. Vabbè, a posto. No. Eh, infatti, mi serve un po' di più. Potrei... Non saper fare i... Potrei, eh. Potrei non saperli fare. Scusa. Ah... Beh, beh... Poi... Poteva andare peggio. Potevo non saper fare cose più semplici. Quindi tutto sommato non mi lamento. Allora, rifaccio questo libricino qui. E vediamo cosa dice su come creare questo portale per questa dimensione. Se è un portale, se è una dimensione. Ma in teoria penso di sì. Dimensional Dungeon. Quindi sarà una dimensione, ci saranno i dungeon. Questi dungeon sono piazzati in una singola dimensione separata. Possono essere... Cioè, ci si può accedere tramite il portale ovunque nell'overworld. Sì, ok. Ma... Come ci entro? Questa è un'introduzione che me lo spiegava. Advice. Vediamo. Non richiedono l'enderpearl. Ok. È una soluzione facile. Le chiavi possono essere rinominate in un envil. Senza cambiare la loro funzione e il loro status. E che me frega. I mob non spawnano nei dungeon. L'accezione degli spawner. E che me frega. No, vabbè ragazzi. Stanno dicendo cose che accade. Ah, usa la mappa vanilla. È più divertente. Cioè, di usare la minimappa. Ma stai zitto. Non lo sai te. Non sai di cosa parli. Non sai di cosa parli. Chiave. Portal Key. Questo è il modo per fare la chiave. Beh, ovviamente facilissima come cosa. Quindi possiamo instant farla in teoria. Abbiamo 6 name tag. E le blades. Se non le ho convertite tutte. Ovviamente ne abbiamo 50. Ok. Beh, ne faccio 2. Non so. Non so, ma ne faccio 2 intanto. Ok. Allora, portali. Come creare il portale della Dungeon Dimension. Va bene. Basic Portal Frame. E serve un Chiseled Stone Brick. Che è quello che ho usato per fare il libro. Dorato. Ah, ok. Sì, il cavolo. Insomma, vuole 9 Stone Brick. 3 Chiseled Stone Brick. 24 Lingotti d'oro. Trapped Chest. Come Trapped Chest? E un occhio di Ender. Ok. Potrei ipoteticamente fare tutto. Allora, Stone Brick. Un po' ne ho fatti. Faccio di questi qua. Ne voleva 3. Però ne faccio uno extra. Perché non si sa mai. Un po' di più extra ne ho fatti. Converto un po' d'oro in pezzettini piccoli. Che c'è tutto in blocchi. Uno lo facciamo dorato. E... Boh. Non so se serve altro. Non me lo ricordo già più. 9 Stone Brick. Stone Brick. 9. Ok. Possiamo fare tutto? Ah, la Trap di Chest manca. E un Occhio di Ender. Occhio di Endercelo. E la Trap di Chest penso di doverla fare io. Cos'è una chest con la Redstone? Forse. No. No, non penso. Forse con l'Ageggino, esatto. Con la Trap coso. Vabbè, dai. Quasi. No, ma quasi. Ok. Fatta. E lo faccio fuori, certo. Accanto agli altri portali? Ho un po' paura di questo. Non lo vedo molto safe come portale. Però si fa. Provo... Qua ci sono le blatte. Mamma mia, no, eh. E li stavo mettendo tutti qua. Continuo a metterli qua. Spacco un po' tutto. E faccio un minimo, un minimo di zona, sì. Che poi anche questo... Guardate. Dovrei un attimino sistemarli perché l'ho fatto... L'ho fatto troppo alto. Dovevo abbassarlo. Ma chi ci ritorna più nella Twilight? Io dopo. Io dopo per fare i livelli, vero? Certo. Non mi dice come si mettono, però ho tutto. Ah, ok. Me lo dice. Che bello, però, eh. Cos'è questo occhiolino qua? Oh, Urca! Lo posso... No! Bellissimo! Ok, ok, ok. Vado a dormire, giornata nuova, lo facciamo. È bello grosso questo. Pensavo fosse una cosettina buttata lì a terra, invece... No, è un bel aggeggione. Allora, non so però se questo coso qui, una volta che faccio così, a right click blocca to anchor destructor, ok? Quindi lo metto così, no? Però quanto ha di spazio qua? Qua ha due di spazio. Quindi uno, due di spazio. Perché non me lo metto? Oh! No, raga, ma perché mi trolla? Uno, due, più in qua. Così. L'ho ancorato. Sì, l'ho ancorato. Ma mi sta dicendo che alcuni blocchi vanno sottoterra? Eh sì, perché probabilmente io entro così poi. Va bene. E... Cosa sono sti cosi rossi qua al centro? Non lo so. Cominciamo. Quindi qua metto questo e questo. Ah, ma ne vuole tre colorati rossi aggeggiosi. Eh, non avevo capito. Io ne ho fatto soltanto uno. No, però ovviamente non so cosa sia quella roba rossa. Ok. È fatto. Ora mancano tre di questi. Che me li faccio direttamente qua nella crafting. Uno, due. Ah, me la dice che l'ho fatta ora la quest. Ma sono sempre tutte queste... Eh, sì, sì, sono queste, sono queste. Abbiamo anche delle cose da aprire. Ci piace. Poi il portal keystone. Che lui non mi ha assolutamente detto di fare. Quindi, boh, ok. Uno, due e tre. Questo lo rimuovo. E io non so cosa voglio da me ora. Infatti dice che manca un blocco. Bro, ma di che stai parlando? Il keystone ti manca. Ah, sì, dice il portal keystone che si fa con uno di questi. Ah, eh, certo. La trapper chest è tutto, se no dove la mettevo? Quindi questo qua, quest'altro. E io invece ne ho fatto uno di meno. Ma va bene. Si risolve subito. Quindi questo, quest'altro e l'enderai. Olè, fatto. Ma non so dove metterlo. Perché lui non me l'ha detto. Che cavolo ci devo... Ah, ma è sopra. Ma è questo so... Ecco perché appunto... Che troll. Mi diceva di farne tre, ma qua non mi diceva... Ma l'ho fatto al contrario? Ah no, vabbè, non penso abbia un verso. Ok, stavo tolando io. Ma infatti diceva... Sì, devi farne tre di quelli. Ma perché devo metterci il quarto, ho detto. Dove cavolo lo metto? Ha senso. Quindi ora faccio così. Lo posiziono con l'occhio da questa parte. E devo levare i blocchi in rosso, dice. Ma così me lo fai fare uno più basso? Ma sei una merda. Me l'hai fatto fare te più basso di uno. Ma dai, raga, ma mi prende in giro. Me l'ha fatto fare più basso e poi rompe. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. E funzionerà. Funzionerà ugualmente. Che ve devo dire. Ok, mangiamo. In teoria è a posto. Devo cliccarci poi con la chiave qui e mi teletrasporterai in una dimensione diversa. Prima di andare, prepariamoci. Perché io non so cosa mi aspetterà da questa dimensione lezzissima. Il libro per sicurezza me lo porto dietro. Mi svuoto dalle schifezze. Questo lo apro. C'era anche l'altra cesta da aprire. Questa qua. Vediamo cosa ci dà. Un enderpearl. L'enderpearl ha detto che non servono. Ma noi ci fidiamo di consigli di una mod? Secondo me... No. Cioè, oddio, potenzialmente è vero che non serve. Però posso dirlo. Le voglio comunque dietro le enderpearl. Non si sa mai. Non si sa mai, ragazzi. Per sicurezza. Me le metto qua dentro. Mi svuoto anche un minimo l'inventario. Perché non voglio portarmi dietro tutta sta robaccia. La robaccia. Le sub. No, non so cosa... Una chiave lascio qua dentro. Cosa mi potrebbe servire, ragazzi? Aiutatemi. Per questa esplorazione ho il cibo. Ho le mele. Penso, spero, di essere pronto. Ce l'ho il piccone dimensionale. Che non ci serve se rimediamo incastrati. Non lo trovo. Ma è una classica scena alatano. Che cerco una cosa e non lo... Eccolo qua, eccolo qua. Ce l'abbiamo. Bene. Quello ci sarebbe per scavare qualsiasi muro dimensionale, in qualsiasi dimensione, per tornare a casetta. Quindi, clicco. Questo portale non è attivato. Blank case devono essere attivate prima di essere usate. Ah, quindi devo attivare la chiave. Quindi ho mancato... Pensavo di essere pronto, ma non ero pronto, quindi... Ok. Vediamo cosa ci manca. Pensavo fosse tutto a posto. Infatti abbiamo il patch note. No, il patch note non ci interessa. Ci manca qualcosa sulla chiave. Allora, le chiavi non possono essere utilizzate per entrare nel dungeon se non sono state attivate. L'attivazione è inscrivere il nome, la location, random. Non ho capito. Il rituale attivazione... Sì, ok, ma nel buco... Cioè, per right click, the blank key on the whole of ender portal frame. Cioè, io devo andare nel portale del land e cliccarci col destro? Siamo sicuri? Siamo sicuri? Vediamo. Ha fatto un tick, ma non so se... Oh, oh! Si è ciucciato una cosa. Ragazzi, riattivo anche l'altra chiave. Ha fallito. Ha fallito. Forse devo fare shift? Ha fallito. Ma che sto facendo? Ah, l'ha fatto ora. Può fallire, quindi. Cioè, io metto gli enderai... No, non ho capito. Vabbè, comunque sono tutte e due verdi. Forse ho cliccato troppe volte a caso. Sì, ho fatto cagate. Potrebbe essere. Ma intanto le ho attivate. Quindi possiamo tornare a casa e vedere se funziona. È buona come cosa, penso. Prendiamo una chiave, a caso. L'altra la ributto qua dentro. E... Via, 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 via. Chi sei? Provo a sto giro a cliccarci. E... Uno, due, tre. E ora... Oh, si è acceso, si è acceso. Possiamo andare? Ragazzi, vado, eh. È la prima volta che vedo questa mod. Non so miniamente dove mi possa portare. Ok. È un dungeon. Non è a tempo. Almeno non mi sembra di vedere un tempo che scorre. Se prendo questo in mano mi fa vedere la vita dei nemici. Ma nella vita c'è anche l'armor stand. Ok ragazzi, alcuni sono strapotenziati. Come faccio a ricordarmi che questa è la stanza iniziale? Ricordiamoci che è sotto quella nera. C'è nera, questa qui e questa qui e quella sotto. Che è l'unica che ha anche il tappeto rosso per l'entrata. Sì, è veramente il tappeto rosso per l'entrata. Allora, dungeon da esplorare ragazzi. Carino, ci sta. Ah, prendo poco io. Sì, però forse da questa stanza non ci devo accedere in questo modo. O forse sì. Non posso rompere nulla. Posso piazzare i blocchi però. Non posso piazzare i blocchi. Quindi cioè mi sta dicendo che se io voglio andare qua devo per forza fare così nella lava. Vabbè, meno male che sono forte ragazzi. Però non mi sembra il caso. Questi qua si falciano così easy. Salto da questa parte. Questa è una trappola. Trappola che non posso aprire col destro. Prendo la glowstone. Ok. E ci sono anche i piani sotto. Ma io posso volare qua? Sì, beh, per forza c'ho ancora la magia. Allora, io arrivo da lì. Ma c'è anche l'altra stanza. Ma c'è una stanza che devo mirare? Sapete che vi dico? Vado prima in questa. Che è l'ultima... Ah no, l'ultima è il cavolo. Si scende poi. Quindi ci sono più piani. Vabbè, ragazzi. D'altronde. Cosa vi potevate aspettare? Cave spider. Come usare questo? Press... Reader side button to spawn a single spider. Premi... Bottone in mezzo per... Far arrivare i ragni il più velocemente possibile. Eh? Io vedo un bottone soltanto. Ah, qua ha due bottoni. Questo. Oh, aio, aio. Ok. E ora? Che è successo? Cioè, se riliccano e spawnano altri tre? No. Sei illuminato. E mo? Che ordi? Così è spento. Ah, è tipo una stanza dello spawn. Ah, ho capito. Lui praticamente ha fatto una stanza che così è buia. E così è illuminata. Per... Per come spawn mo... Come mob spawner. Ma è geniale questa roba. È geniale. E quindi se io faccio così cosa succede? Cioè, dice che ne fa spawnare solo uno. Eh sì, ne ha fatto spawnare uno veramente. Perché magari lampeggiano sull'antullato... Eh sì, vabbè. Se c'ha voglia di farlo spawnare comunque. Allora, diciamo che... Sì e no, eh. Sì e no. Però è figo, è figo. Hai provato a schiacciare quei bottoni dietro le fonti di lava? No. Quali bottoni dietro le fonti di lava? Vado a vedere. Eh, arrivo da qua però. Bottoni. Ah, sì. Levano la lava. Ma c'erano anche... Ma c'erano anche qui. E insomma, ragazzi. E insomma. Però, sapete, quella cesta è lì illuminata. Mi ispira. Il fatto è che sta qua dietro. E... No, aspettate. Forse... Forse c'è un rebus. Perché il concetto di questa mod qui... È che ci sono delle cose da risolvere. Come ad esempio anche i bottoni. Quindi entriamo un attimino nella logica, ok? Perché c'è una cesta qua dietro? Perché c'è qualcosa di questi da premere, certo. Sentite, ragazzi. Non fanno per me... Non fanno per me questi rebus. Assolutamente no. Vado nel piano di sotto che forse c'è roba più buona. Spero. Clicca i bottoni. Ci ho provato. Ma non si scende giù. A meno che, anche in questa stanza, non ci sia un qualcosa. E... Non penso. Vedete i bottoni? A meno che non posso rompere proprio questi. No, non posso. O ci attraverso, shifto. Facciamo così. Giusto per vedere se realmente esiste un piano di sotto. Noi siamo all'altezza 52. Ok? Ragazzi, giusto per vedere. Perché se c'è un piano di sotto, un modo per arrivarci sarà. Noi siamo a 52 e vedo questo. Non c'è un piano di sotto. Trollava. Trolla veramente. Questo trolla. Ok, allora andiamocene. Allora, da questa parte... No, andrei in quelle su. Tornerei completamente indietro, allora. Per me da fastidio. Qua dietro potrei... Sì, qua dietro c'è qualcosa, eh. Come ci arrivo? Ragazzi, c'è un passaggio. Uso l'ender perché mi aveva detto di non portarmi dietro. Che dite? Orca miseria. Uh, hola. Ho buggato. Non dovevo, vero? Che mi hai dato? Collane. Si passava da qua. Guardate qua. C'è un micron... No, dai. Dai, ma come si prende questa roba? Non posso prenderla. Che cavolo. No, dai, ragazzi. Ma dove si passava? Ok, così. E poi faccio così. E sono sticky, quindi faccio così. No. Così. E via. E io passavo... No, dai, per forza era con l'ender. Non si poteva aprire da qua. Era impossibile di aprire. Comunque c'è rimasta la cessa sotto. Io non so come prenderla, eh. Quindi, boh. Magari il frittà non è entrata. Eh sì, boh. Ragazzi, così. Però è figo, eh. Molto particolare come posto. Se vado tutto dritto andiamo a vedere, sì, le stanze nuove, dai. Non... Non ha un segreto questa. Penso. Questa è vuota. Non vedo dettagli differenti. Non vedo un ali strano. Una marea di bottoni. Questo è un rebus. Questo è un rebus. Ma... Per cosa? Cosa devo fare? Cioè, questo è il mio problema. È il cosa devo fare. Probabilmente vuole che io sposti questo qui. No, non ci potrebbe mai arrivare. Penso che voglia metterli qua. Anche perché non ci... Veramente non ci può arrivare. Ragazzi, secondo voi qual è lo scopo di questo rebus? Cioè, veramente è impossibile. Io, boh, potrei fare così. Che prendo questo. Lo prende. Lo sciuccia. E poi? Poi non lo so. Cioè, poi non ci faccio nulla, ragazzi. Cioè, non... Non lo so. Me ne vado nel prossimo. Peccato non si possa rompere. Eh, ma secondo me un modo c'è. Io sono abbastanza convinto che un modo ci sia. Però se non è brick, forse è perché c'è amplificazione 2, ci mette amplificazione 3, vediamo. No. Cos'è che abbiamo che rompe i blocchi? Che non sia la magia? Puoi spingere i pistoni con i pistoni? Sì, ma non arriverebbe mai laggiù, ragazzi. Cioè, è follia. No, non può fisicamente arrivare qua, in questo punto, quel blocco. Cioè, anche questo qui, boh, lo spinge così. No, è pure sticky. Vabbè, posso fare così. Cioè, poi cosa faccio? Faccio così. No, ho sbagliato. Faccio così, faccio così. E mo? Cioè, nel senso, boh, raga, non lo so, non... È follia. Cioè, se poi, di repente, lo scopo è quella, è follia. Mi rifiuto io di farlo. Come minimo mi sto... Sto missando tutto. Oh, ecco qua. Qua c'era un bottone segreto. Ecco, vedete? Lì, lì c'era... C'era un qualcosa di segreto. Effettivamente. Andiamo a vedere. Ah, è una trappola questa. Qua c'è un anvil. E qua, due lezzi. Ok. Che forse dovevano fermarmi? Non lo so. Questa va già a metà vita. Oh, vieni qui. Vieni qui. Però, vedete, quello nell'armadio, cioè, era anche prevedibile un pochettino, ovvio che l'armadio lo apro. Qua, invece, chest. Cos'è sta roba? Frammenti? Ma di cosa? Allora, intanto butto via le cose che non mi interessano, perché mi intaso l'inventario tipo troppo. Frammenti di storia, libri, che potrebbero non interessarmi, la carta che non mi interessa, indubbiamente. Cosa ci faccio con questi frammenti? Ci faccio la carta? No, dai, forza altro. No, no, ci faccio la carta. Ma che cavolo è? Mentre con questi, non ci faccio nulla, ma probabilmente vanno letti, suppongo. Usa quella roba lì per scrivere il nome della lore. Il nome è la lore. Combina con qualsiasi item nell'anvil per attaccare... Ah, la lore, la lore! Raga, la lore è quello che c'è scritto in viola negli oggetti. Purtroppo non ho nessun oggetto che abbia una lore. Però in questo caso la lore sarebbe, tipo, quando attacchi, vai a creare un magical blade, cosa. Non so, quello lì, quello lì è la lore. È quella sotto là, è sotto il titolo dell'arma. Ok, è inutile. Cioè, è una delle cose più inutili che abbia mai visto, però è figo. Ho fatto il giretto così e quella era la stanza finale, quindi. La stanza finale è questa. Con un bottone. Lo premo. Tirata. E ora? Però io... Ah, io attacco da 3 km e non basta. Ok, ho fatto tutto e ora... Oh, Chester! Che figo! Unbreaking 3 e efficiency 4. Non male, non male! Meno male ai ragazzi che attaccano da 30 km. Veramente meno male. Mi ha risparmiato tantissima fatica qui. Quindi, sì, non è che ogni stanza ha la sua particolarità, però c'è una stanza, ogni tot, che è particolare. E quando la trovi, sono tutte collegate le stanze. Tipo, questa cos'è? Questa è l'uscita, ma è un'uscita differente, perché questa era l'entrata. Quindi questa, non so cosa sia, ma ci arriviamo magari dopo. Vado di qua. Facciamola esplodere. E che succede se esplode? Fa boom! Faccio solo le cose dentro. Seal touch e nulla. Eh sì, è vero, perché io non potevo romperlo questo, col piccone. L'unico modo che avevo era quello di andarlo a far esplodere, effettivamente. E queste qui sono stanze di passaggio. Che figata, ragazzi. È veramente che figata. Ora, rimane soltanto l'ultima stanza, che è questa qui a destra. E poi attraverso il portale, ma quello, non quello da cui sono entrato, ma faccio direttamente l'altro. Qui abbiamo una pressor plate. Non fa nulla. Non fa nulla. Non fa nulla. Forse devo tenerle tutte premute. Si premono così? Non è magia che fa esplodere? Sì. Hai ragione. Se non possiamo noi fare in modo di rompere il blocco, possiamo fargli esplodere. Certo, cioè hai ragionissima. Lo farò assolutamente. Ma prima voglio provare a attivare questo con la magia, ragazzi. Con la magia. Infatti, io ho la magia dei cloni. Tano. Ok. Uno di qua. Eh, che cavolo. Uno di qua. E io. Se era attivato qualcosa, eh. Ragazzi? Se era attivato qualcosa. Che cavolo si è spostato quello? Dai, siete stronzi. Siete stronzi come l'originale. Che cavolo. Li spammo ovunque. C'è qualcosa che si sta attivando. Ma non capisco cosa. Ah, no. Ma se era... Ha funzionato. Se era aperta questa. Ok. C'erano un po' di... Smeraldini dentro. Mamma mia, ragazzi. Io non stavo capendo. Ma vi levate di torno. Sì, lo sentivo qui che stava... Oh, un nuovo trinket. Lo sentivo che si stava attivando qualcosa. Ma infatti, guardate. Si richiude anche. Sarevano tanti tanni. Quindi questi dungeon qui sono pensati per essere fatti anche non da soli, ma in compagnia. Va bene. Abbiamo finito. Posso andare? Sì, era l'ultima. Era l'ultima. Vediamo se mi porta fuori o... In un altro. No. È lo stesso, mi sa. Sì, infatti qua vedete ci sono ancora i tanni. Però l'ho finito. Quindi possiamo andare via. Quello mi riporta all'inizio, ma forse non è tanto per quello, ma per i dungeon un pochettino più complessi potrebbe essere. Ragazzi, in questo momento, l'ultima cosa di oggi che voglio fare è di andare nel Trite Forest. Ma tranquilli, non andremo a fare chissà che cosa di brutto, complicato o altro. Ma soltanto a prenderci una quest. Quindi, Trite Zone. Eccola qua. Come vedete, noi siamo arrivati qui. Dobbiamo andare a fare questo ramo qui finale. Ci metteremo pochissimo tempo, ma è interessante perché gli dà altri livelli, tanti livelli di exp, livelli poi skill. E insomma, anche soltanto queste cose qua. Un voto, cioè ora siamo a quasi 200 livelli, li superiamo al 100%. Quindi andiamo, andiamo. Tra l'altro tutte le coordinate dovrei già averle salvate, quindi forse non ci metteremo troppo. Dobbiamo andare in questo punto, in teoria. Non so se lì si trovano i troll. Oddio, ogni volta, l'ho fatta 200.000 volte la Twilight, ma ogni volta mi scordo sempre tutto. Quindi andiamo a vedere se riesco a fare tutto per bene. I troll sono giù, sono sotto i giganti. Quindi se i giganti sono qui, i troll dovrebbero essere qua sotto, in teoria. Penso. Spero. E la cosa migliore, ovviamente, è scavare. Ok, abbiamo il blocco. Siamo sicuri di fossero qua i troll? Ah, ma io posso... No, ho sbagliato la dinamica, mi sa. Allora, ho ottenuto questo. E ho ottenuto questo. No, prima dovevo... Queste qua dovevo scavarlo con il mega piccone dei giganti. Quindi prima dovevo killare i giganti per andare qua. Vabbè, ho fatto... Ho fatto le cose un po' a caso, ma va bene. Però il fatto è che se non killo prima il troll, non mi fa le missioni dopo. Quindi... Devo trovare il troll. E questo è un troll? Ah, sì. Cave troll. Oh, amico. Ciao. Fatto. A posto. Ora, posso salirmene? Penso di sì. Da questa parte qua. Dai. Ce la faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. Ho fatto tutto. Killa un gigante scavatore, che sono questi qua sopra. Hanno poca vita, quindi in teoria si fa abbastanza easy. Ho la Tano. Wewe. Killiamo anche il guerriero. Già che ci siamo. Non so se è una missione, ma... Ma uno lo killiamo sicuro. E mi rimane... Nulla. Madonna, lo fate tutti a raffica, perché sì. Mi rimane solo ad andare nella foresta. Che vabbè, noi la superiamo. In verità la lampada serviva per distruggere le piante. La lampada che avete visto qua. Però non ne possiamo volare, quindi ce ne freghiamo. E andiamo direttamente dal boss. Che non è ancora stato implementato, non è mai stato implementato. Tu chi sei? Ma è anche forte. Quattrocento di vita. Brutto. Fatto? No. Cosa vuole che faccia? Guarda il boss del final... Devo guardare il... Devo guardare lo spawner. Eh, lo sto guardando. Posso rompere? No, non posso rompere. Come ci arrivo lì? Urca miseria. Ho rotto? Ok, non l'ho rotto. Lo guardo. Oh, ok. Da sotto l'ho fatto. Regà, che vi devo dire? Ecco, queste erano le missioni di oggi. Sì, era proprio questa. Ora, siccome non so nemmeno come tornare a casa e sono troppo lontano, utilizzerò il minatore di dimensioni. Regà, no, dai, scaviamoci un bel portalino per tornare a casetta che... Eh, non c'ho voglia di fare 3.000 passi. E... Sbam! Eccoci qua, a posto. Regà, 3 secondi. Abbiamo fatto 200.000 missioni. Buttiamo tutto. Tutte cose inutili queste, ovviamente. E, ragazzi, è arrivato l'aumento. Ufficialmente di andare a scattare le ricompense. Finché sono queste qui. Sono anche facili. Si prende tutto. Quello che ci dà, ci dà. Ok. Ma ora, qui, bisogna scegliere anche dove andare a prendere i skill level. Intanto i nostri livelli, ragazzi. 208 livelli. Mamma mia, che bellezza. Apro anche questa raffica. Slimeball. Random More. Pozione di vita. E... Ventumingot. Che non ho mai visto prima. Ma... È ferro. Sostanzialmente è ferro. Sì. Non serve a niente. Cioè, serve per quello che serve il ferro. Quindi... Nulla di goloso. Mi piace... Il coin. Che per sbaglio ho messo qua dentro. Questo qui, ragazzi, può essere molto molto goloso da spendere. Perché ci dà delle robe abbastanza rare. Quindi lo metto qua dentro. Poi si aprirà. Fa Gatering. Ragazzi, però Gatering al 46 mi sembra un po' uno spreco buttarlo su Gatering. Perché... Gatering al 46 faccio lo livello più facilmente se proprio cerco di farlo. Considerate che a prescindere... Lui non mi dà un milione di exp. Ok? Lui mi dà due livelli. Quindi se io riscatto due livelli su una cosa su cui ho 72 mila. O due livelli su una cosa su cui ho 19 milioni. Capite che dà molto di più sui 2 milioni, 20 milioni, quello che è. Perché qui su Gatering quanto mi dà magari? Mi dà 10 mila di exp che avrei fatto rompendo qualche blocco? Su Shadow, ragazzi, è follia. Ma poi Shadow non fa nulla. Shadow non fa quasi nulla. Non mi risulta che dia qualche power up. Intanto clicco questo che lo sceglie lui, suppongo. Ha scelto magia. Meno male perché poteva andare anche su quelle sotto che non mi servono solamente a nulla. E mi ha dato un livello soltanto. 105 di bonus damage. Ragazzi, ora ci tocca a noi scegliere. Vado di danno? Ragazzi, siamo a livello 103. Potremmo andare al 110 tranquillamente. Lo faccio. Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Livelliamo tantissimo il combattimento, dai. Ora dovrei andare a 106. 105, scusatemi. Ok? Vado su tutto il combattimento. Tanto è la meglio perché alla fine faccio... Così faccio un botto di danno e sto a posto. Ecco, questi qui ad esempio che invece mi danno 200 posso anche buttarli su altre cose. Non mi interessa di quelli lì effettivamente. Ma di questi qua importanti... Sì, combattimento facciamo. Li faccio la parraffica ragazzi, eh. Combattimento. Combattimento. Sperando di non averli buggati tutti, eh. In questo modo. Oppure sperando di si magari aumenta all'infinito. Ok, riscaldati tutti quanti. Siamo a 112. Forse arriva a 113. Per poco mi sa che non ci arriva. Però questo anche no. Questo no. Cioè, 112 e 99 no. Comunque... Anche a 52 milioni. Cioè, guardate quanti livelli abbiamo fatto. Guardate quanti livelli. Siamo passati da un 208 di danno bonus a un 224. Non è roba da poco. Non è roba da poco. Certo, andando più in là sarà sempre di meno il bonus. Cioè, sarà sempre l'1%. Ma conterà sempre di meno considerando che c'è già un bonus enorme. Però intanto abbiamo fatto mega power up. Abbiamo ufficialmente finito la Twilight. Abbiamo scoperto una nuova dimensione dedicata ai dungeon. Che sono molto molto interessanti. E ci torneremo sicuramente. Non so se nel prossimo episodio saremo già con la nuova versione. O dovremmo aspettare ancora un episodio. Ma sicuramente, prossimamente, è una di quelle cose che vanno assolutamente fatte. Io, detto questo, vi abbandono.